Un finanziamento regionale per un progetto di bonifica e valorizzazione dell'Officina Storica Sangritana di Tua a Lanciano. Ad annunciare questo finanziamento l'assessore regionale Nicola Campitelli. Assolutamente sì, 300.000 euro per completare il risanamento di una parte di storia della città di Lanciano e di tutta la regione Abruzzo perché qui al di là che questa officina storica rappresentava il cuore pulsante produttivo e simbolo della città di Lanciano ma il simbolo di tutta la regione Abruzzo. Qui c'erano i migliori know-how di tutta la nazione proprio per quanto riguarda la cultura ferroviaria. Quindi con questo finanziamento completiamo il risanamento di quest'area fondamentale, quindi un'attività di bonifica. Oggi è un'area contaminata, non di pregio. Domani sarà un'area che sarà messa in sicurezza dal punto di vista ambientale ma soprattutto restituiamo alla città di Lanciano un gioiello che potrà essere utilizzato per futuri progetti e programmi per quanto riguarda ad esempio il polo ferroviario, il polo museale dove si potrà assaporare la cultura ferroviaria della sangritana quindi la storica sangritana e quindi in effetti Lanciano potrà avere quel ruolo importante come punto di riferimento della cultura ferroviaria anche a livello nazionale. Una volta completati i lavori di bonifica si pensa anche al futuro dell'officina storica e di tutta questa area. Enrico Dolfi, direttore della divisione ferroviaria di TUA. Sì, infatti abbiamo in pectore un progetto di riqualificazione dell'intera area. Questo progetto lo sta curando con un precedente incarico l'architetto Smargiassi di Vasto congiuntamente con la nostra responsabile del real estate che è l'architetto De Gampli. Il nostro intendimento e la nostra intenzione forte vorrebbe essere quella di realizzare un polo museale dove poter allogare tutti i treni storici che sono certificati dal Ministero dei Beni Culturali di proprietà di TUA e creare un'area attrezzata per questa conoscenza così dedicata alla città di Lanciano. Altro aspetto molto importante è che qui è presente uno dei più antichi archivi documentali e fotografici ferroviari in Italia. Non ci dimentichiamo che è una delle ferrovie più antiche d'Italia. Tutti questi tesori, se così possiamo chiamarli, per la città di Lanciano e per l'Abruzzo intero credo che possono essere tutti quanti raccolti, preservati, implementati in un'area che è stata sempre dedicata a questa vocazione ferroviaria.